Musica Manca solo la matematica all'Agracas per certificare ufficialmente il passaggio in Lega Pro. Si butta via la battipagliese che viene raggiunta dalla roccella all'ultimo istante di una partita che stava conducendo brillantemente per 1-0. La leonfortese che potrebbe essere poi spiegheremo un prezioso alleato dell'Agropoli in piena zona playoff. L'Agropoli appunto non riesce a vincere il suo scontro diretto in casa con i Learrende e non riesce a scavalcare proprio la squadra calabrese. Buonasera e bentrovati a una nuova puntata di Sportmedia. Analizzeremo come al solito la giornata calcistica appena trascorsa. Parleremo di Serie D, del Gironie e del Gironie H dove certifichiamo appunto la salvezza pur nella sconfitta della Gelbison che si è salvata matematicamente da domenica scorsa. Poi nella seconda parte parleremo di promozione e campionati minori con la partita di spareggio in pratica anche se era ancora regular season tra Calpazio e l'Agropoli. L'Agropoli aveva due risultati sul tre per accedere proprio alla lotteria dei playoff. La Calpazio aveva un solo risultato e ha vinto la Calpazio 3 a 0. Però vedremo ci sono anche un po' di polemicucce poi per la verità subito sedate però la partita è andata come è andata. Nella terza parte invece parleremo del torneo che si svolgerà il giorno 24, 25 e 26 di aprile sul campo Coriglie, sul campo Torre, il VS Sport. E poi vi ne daremo conto con i diretti protagonisti. Allora partiamo subito con la serie D, analizziamo i risultati del Gironi. L'Agropoli rende 1 a 1, Acragas-Orlandina 8 a 1, Battipaese-Roccella 1 a 1, Mentaltum-Interreggio 1 a 1, Due Torri, Nero-Stra di Frattese 0 a 1, Leonfortese-Tiger-Brolo 2 a 1, Neapolis-Noto 0 a 0, Novo-Gese-Marcianese 2 a 1, Sorrento-Torrecuso 3 a 1. La classifica, l'Acragas a 68 punti, ormai veramente solo la matematica manca per certificare gli agrigentini in Lega Pro, secondo il Rende che mantiene quell'esiguo punto di vantaggio con il pareggio ad Agropoli, Agropoli che segue un punto a 58, Torrecuso 55 ormai fuori da tutti i giochi, Frattese 53, Leonfortese, Neapolis 51, vedremo poi la classifica di Leonfortese potrebbe essere un prezioso allelato per l'Agropoli, Due Torri 45 insieme all'Interreggio, Marcianese 44, Roccella 38, Nuova-Gioese 37, Noto 36, Sorrento e Battipaiese 31, Tiger-Brolo 29, Comprensore-Montalto-Unfugo 25, Orlandina a 6 punti. Dicevamo, l'Agropoli non riesce a battere il Rende, addirittura agguanta il pareggio a 8 minuti dalla fine con un gol da centravanti consumato, anche se non è proprio il suo ruolo di Matteo Berretti dopo l'iniziale vantaggio di Simeri con una bordata dai 25 metri, un paio di date dal vento, però sicuramente un gran gol per l'esterno d'attacco della squadra calabrese. Poi le vedremo nelle immagini, dicevamo, allora praticamente mancano tre giornate alla fine, il punto di vantaggio del Rende può sembrare esiguo, invece è tanta roba perché praticamente adesso il Rende col pareggio di Agropoli si è assicurato il vantaggio negli scontri diretti, in pratica se, per dirla in parole povere, se arrivassero a pari punti l'Agropoli e il Rende appunto, arriverebbe il Rende secondo perché negli scontri diretti in Calabria all'andata ha vinto 1-0 e Alguariglia appunto ha pareggiato 1-1. Quindi c'è proprio da scavalcarli, mancano solo tre gare alla fine, facendo una mini tabella adesso si può fare perché l'Agropoli è attesa da una doppia trasferta, cominciata domenica a Gioia Tauro con la Nuova Giese che è quasi salva ma non completamente, vediamolo il prossimo turno. Con l'Interreggio che ospiterà l'Akragas, Frattese e Battipaiese, Noto Roccella, Nuova Giese e Agropoli, Orlandina-Sorrento, Progredo-Marcianese-Montalto, Rende-Leonfortese, Tiger-Brolo, Due Torri, Torrecuso-Neapolis. Se rimaniamo un attimo la schermata, dicevamo che il Rende deve giocare con la Leonfortese, che è l'unica squadra delle tre partite che mancano per la compagine calabrese, che potrebbe magari giocarsi qualcosa perché la Leonfortese, a sorpresa perché è una squadra neopromossa dall'eccellenza, è in zona play-off, quindi dovrebbe giocarsi al massimo la partita, magari cercando anche di vincerla, perché poi il Rende è atteso e deve andare poi con il Due Torri, sempre in terra siciliana, il Due Torri però ampiamente salvo e tranquillo, e poi in casa una partita teoricamente difficile, c'è Rende-Akragas, ma l'Akragas arriverà a Rende con il campionato già in tasca, che non pensiamo voglia rompere l'uva del paniere, possiamo tornare in studio. Queste tipo di partite si sa come vanno, fur da ipocrisia, pasticcini prima della partita, baci a bracci, è un risultato che magari va bene a tutte e due. La Gropoli invece gioca con tre squadre che devono giocarsi tutte e qualcosa, a cominciare dalla Nuova Giovese che è quasi salva come detto, però vorrà certificare proprio con i Delfini, con una vittoria o magari con un risultato positivo, proprio la salvezza raggiunta. Dopodiché ancora con il Montalto che si è tardato in classifica, ma si sta giocando le partite alla morte, addirittura con dei risultati spettacolari nell'ultimo due gare ha pareggiato 3-3 a Rende e ha vinto 3-1 in casa con il Marcianise, se non andiamo errati. E quindi anche a 25 punti si sta giocando in pieno la salvezza. Nell'ultima partita l'Agropoli avrà il Noto che a 36 punti verosimilmente avrà già raggiunto la salvezza, quindi è una partita abbordabile, ma è l'ultima, quindi nel comitanza con Rende e Agragas, quindi tante parole, però alla fine dovrebbe parlare il campo, però si sa come vanno queste cose a fine campionato. È veramente difficile, alla luce di questo che ho detto, di questa analisi, battere il Rende era veramente fondamentale. Vediamo le immagini e vediamo com'è andata la partita fra Rende e Agropoli. Si stanno per affrontare Agropoli e Rende, un punto di vantaggio per i calabresi sull'Agropoli che oggi hanno la possibilità per la prima volta in questo campionato di andare al secondo posto in solitare. Palla adesso che è sempre buona per Michele Siano, palla in qualche modo arriva a Canotto, Canotto resiste, fuori gioco però segnalato dall'assistente di linea. Zangaro in contrasto con Viscardi riesce a mettere palla in mezzo, fermata da Viscardi che favorisce il recupero di Capitano Alfano che avanza palla alla piede, cerca compagni da servire, trova un po' in controtempo Matteo Berretti infatti anticipato dal Rende. Ancora Viscardi, punizione per affallo su Gigliotti sulla tre quarti d'attacco del Rende. Tiro rete, incredibile la punizione dai 30 metri. Simeri, un siluro all'incrocio dei pali di Simeri, clamoroso davvero approfittando anche di un po' di vento a favore, parte una bordata. Palla dentro esce a valanga, ottimamente De Brasi, su Ragosta, converge Zangaro al centro, Lobo morbido a cercare ancora Simeri, per un niente non arriva sulla palla, è uno schema questo con il numero 11 Simeri che taglia in mezzo. Alfano, Alfano per Canotto, Canotto di petto verso Viscardi, buono il dialogo Canotto-Viscardi, prova addirittura a tirare. Si risveglia l'Acropoli con questa occasione di Canotto che non ci pensa due volte, sul primo rimbalzo spara a rete, deviazione, palla che esce di poco. Attenzione, colloquio fra l'abito e la segnalinica, sembra avere qualche problema. Il problema al polpaccio per il segnalinica, sembra abbastanza serio il problema del primo assistente, il signor Francesco Paolo Sant'Arsia, si sta per verificare qualcosa di incredibile. Gli addetti al campo, vediamo il segretario molto agitato, segretario queste cose si vedono in prima categoria, non qui. Allora io su due piedi non mi posso ricordare esattamente tutti i regolamenti del gioco calcio, però a me mi giunge nuova questa cosa, in serie D. Sì, nelle categorie inferiori si è visto. Nella prima categoria è prevista l'assistente di parte. È ufficiale, i segnalini sono Nicola Volpe, è un addetto della Rende, in maniera molto pratica possiamo dire che praticamente il segretario è l'arbitro che prenderà tutte le decisioni. Sicuramente sì, perché addirittura c'è il nostro assistente Volpe sulla zona d'attacco del Rende, è l'assistente del Rende sulla zona d'attacco della Cro, quindi sicuramente l'arbitro li prenderà proprio minimamente in consiglio. C'è da sperare che non ci siano situazioni al limite sui fuorigiochi o su altro. Scognamiglio si avventura in un dribbling, palla in qualche modo arriva ad Alfano, buono per Viscardi, Viscardi per Canotto, attenzione Canotto in aria, Alfano, palla buona per Matteo Berretti, Siano a porta vuota, Siano col portiere a terra, la migliore occasione per l'Agropoli nel primo tempo. Esposito, mette palla in mezzo, attenzione la devia un giocatore del Rende, la cerca di colpire Berretti, palla per Ragosta, Ragosta, mette palla Ragosta in mezzo, attenzione, grande occasione. Ginobili, Alfano, Canotto, ancora Alfano, Viscardi, palla in mezzo di Viscardi, sembra buona, paratissima, clamoroso sul colpo di testa di Siano, paratissima di De Brasi. Ragosta cerca e ce la fa a mantenere la palla in campo, Siano, palla in mezzo, Berretti si avvita, ottimo il movimento di Berretti, in avvitamento. Canotto, da un po' di tempo l'Agropoli non riesce ad entrare in area di rigore del Rende, Capozzoli, palla in mezzo, buona! Capozzoli, buono il movimento di Capozzoli, potrebbe andare al tiro Capozzoli, lo prova! Palla che sfiora il palo, ottima azione di Capozzoli. Viscardi, a questo punto anche il pareggio sarebbe un buon risultato, manterebbero le distanze inalterate. Canotto. Canotto, attenzione, Berretti! Rete, rete! Rete, Matteo Berretti! Gran gol di Matteo Berretti! Gran gol di Matteo Berretti! Sulla prima palla, giocabile in area, da centravanti vero, Matteo Berretti, uno a uno, uno a uno! Scognamiglio, palla che buona, buona per Capozzoli! Capozzoli entra in area, Capozzoli entra in area! Fischia in questo momento l'arbitro, Agropoli, e rende uno a uno. Rientriamo in studio, abbiamo visto una partita veramente, veramente difficile, si era addirittura messa male, il Rende non ha dato questa grande impressione di squadra, però alla fine ha fatto il gol e si è difesa con ordine, con grinta, triplicava, quadruplicava addirittura le marcature. L'Agropoli aveva qualche acciacco, è sposito recuperato in estremis proprio il sabato mattino, lo stesso Capozzoli che poi è entrato, il venerdì si era bloccato per un piccolo risentimento muscolare, buttato nella mischia perché alla fine bisognava recuperare il risultato. Cascone e Napoli infortunati, il lungo da gente darà lo manco a parlarne, quei cross che avete visto nelle immagini sarebbe stato proprio preda facile del centro avanti dell'Agropoli che tanto, tanto, tanto è mancato alla squadra di Patrona Cerruti in questo finale di campionato. Dopo le partite ci sentiamo un Patron Cerruti un po' rabbuiato, ma era un'intervista a 30 secondi dalla fine della partita e l'analisi invece di Mister Rigoli che eloggia come sempre il suo gruppo di giocatori. Presidente, un po' di rammarico, partita a seconda con totorezza, forse per gli infortuni la squadra non è arrivata al 100% a questo scontro diretto per il secondo posto? Non lo so che cosa è stato ma sicuramente c'è il rammarico perché la squadra non è che l'abbiamo visto con un approccio giusto per poter portare a casa i tre punti. Ho fatto eccezione di quell'occasione in primi minuti dove abbiamo preso il palo, si pensava che normalmente la partita si potesse portare a casa, non è stato così e niente, dobbiamo rispettare i risultati del campo. Io mi aspettavo di più naturalmente, mi aspettavo che ci fosse stata la svolta dal punto di vista dell'emotività rispetto alla bruttissima prestazione che abbiamo fatto la settimana scorsa a Marcianise. Non è stato così, lo so, quindi con un po' di dispiacere mi spero che naturalmente si possa raggiungere il secondo posto. Tra il secondo e il terzo posto cambia il mondo, c'è una partita in più e una finale magari del giocare proprio a Rende con un solo risultato a disposizione, quindi arrivare ai secondi è veramente fondamentale. Sì, io penso che oggi era una partita importante, contrariamente a quando avevo letto che ha detto il mister, non ci credo perché l'ultima partita giocherà a Rende, a Agragas. L'Agragas avrà vinto il campionato, danno lì per gioiosi naturalmente di aver portato a casa questa vittoria del campionato e non penso che ci sarà una lotte. Poi, purtroppo la sportività oggi non lo so fino a quando si può sostenere, quest'anno abbiamo visto ancora altre, basta pensare a quello che è successo con il tour Recuso, altre situazioni, quindi non lo so. Io so solo che noi abbiamo messo il cuore, io in qualità della società tutti ci abbiamo messo il cuore, io, Francesco Magna, quello che abbiamo potuto dare abbiamo dato e più di questo non riesco a dare. Naturalmente, con tutte anche le difficoltà, mi aspettavo anche i ragazzi, nonostante tutto hanno fatto il dato il possibile, forse più di quello non se la sentivano di dare, io non posso recriminare se non quello che sicuramente la nostra squadra, un organico che non ha niente di invitiare al secondo posto del Rende. Secondo me, poteva invitare anche a, se fossero state tutte le cose, insomma, come devono andare, con tutto il rispetto anche potevamo lottare con l'Agra. Purtroppo non è andato così, vuol dire che io non sono competente, quindi altronde... Nel discorso tecnico l'ha sempre delegato a Magna. Naturalmente, è il male minore. No, ma io mi fido molto a quello che dice Magna, se Magna ritiene che naturalmente questo è un organico, anche io ritengo che è così. L'ho dato tutto e darò tutto quello che posso dare fino alla fine. Non so se tutti possono dare tutto quello che si sentono di dare, però forse quando lo vogliono dare o se lo daranno penso che sia troppo tardi, il camionato è finito. Non sono le cose, le aspettanze, perché quelle sono impegni naturalmente che mi hanno rispettato, prima o poi ho fatto così, però i risultati purtroppo non arriveranno. Il risultato è troppo tardi. Io penso che noi, con la nostra serietà, meritavamo molto 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 di più. Io non so a che cosa prendono. Ritengo che sia un organico validissimo, quindi non si può sostenere che la nostra squadra non è un organico, poteva lottare. No, assolutamente. Premessa che naturalmente credo a colui che l'ha formata questa squadra, Francesco Magna, formamente e fortemente è quello che è. Ma anche gli altri detti di lavoro dicono che l'organico è un organico validissimo e quindi potevamo lottare. Qualcosa ci è mancato. Ci è mancato anche da parte della nostra società, va bene. Ma la società fa tutto quello che può fare col cuore. Noi siamo due e gli altri loro sono 30, quindi vediamo che cosa possiamo fare. La unica cosa che mi interessa è non dare delusione ai tifosi. Le mie me le posso prendere, gli altri si possono prendere le mie, però è importante che noi gli diamo ai tifosi. Mister, subito una domanda a Bruciapelo. Soddisfatto del punto raccolto in Estremis, alla fine facendo un'analisi della gara totale, il Renda ha tirato con un solo tiro in porta e che tiro? Se forse è entrato magari l'occasione di Canotto saremmo parlando di un'altra partita. No, guarda, io più che parlare del risultato vorrei parlare dell'ottima prova che hanno fatto i ragazzi. Come ho detto prima, ho fatto i complimenti e subito è entrato nello spogliatoio perché penso che ancora oggi hanno dimostrato prova di grande attaccamento, di grande professionalità. Ma lo stanno facendo sempre, almeno da quando io sono qua, lo hanno sempre fatto e penso che anche oggi lo hanno dimostrato perché poi alla fine dopo il pareggio volevano la vittoria. L'hanno cercata, solo che poi non è arrivata, anche perché il Renda si è difeso a denti stretti, mettendosi tutti nella loro metà campo, quindi era difficile trovare spazio. Possiamo dire però l'emergenza con cui ha dovuto combattere Messiricone le ultime due settimane. Esposito con nessun allenamento delle gambe buttato nella mischia perché era troppo importante, anche altre defezioni, Cascone, Napoli, mancanza delle alternative. Io ti dico una cosa, questo poi magari non si sa perché è un lavoro di settimanale, chi viene a vedere la partita non lo sa. Noi venerdì eravamo con i giovani contati, doveva giocare Di Orio e Viscardi doveva giocare a centrale di difesa perché era fuori Napoli, era fuori Esposito, era fuori Cascone e c'era fuori pure Capozzolo. Ho avuto un risentimento venerdì che poi dopo sabato l'abbiamo tenuto un po' più tranquillo e poi ci siamo riusciti a recuperarlo per oggi. Quindi voglio dire purtroppo con i giovani casualmente è capitato che si sono fatti male tre giovani, quindi voglio dire magari non capita sempre. Però voglio dire in questa settimana siamo stati in grande emergenza. Questa partita recuperata in questo modo, l'ultima domanda, può dare la previa giusta per queste ultime tre giornate di campionato con capabilità, con grinta, magari anche al di là delle possibilità che in quel momento aveva l'Agropoli? No, guarda, noi oggi ci tenavamo tanto a vincere la partita, secondo me non meritavamo il pareggio per quello che abbiamo costruito in campo, per come siamo partiti, perché pronto e via abbiamo avuto la palla con Canotto. Però, ripeto, come ho detto prima, ci sta, che a volte magari non riesce a buttarla dentro e io mi auguro che noi continuiamo a fare quello che abbiamo fatto nelle partite precedenti. Ora abbiamo due trasferte che sono molto delicate, molto difficili, con la gioiese che si deve salvare, quindi non sarà assolutamente una trasferta facile, anche perché noi abbiamo delle assenze importanti. Ma non di meno noi andiamo a giocarci la partita perché ce le vogliamo giocare con tutte e poi alla fine tireremo le somme. Archiviata la pratica Agropoli, sviscerato il discorso anche su questo finale di campionato, lo concludiamo con la partita contro la Nuova Giovese, una squadra notoriamente ostica, anche se l'Agropoli l'anno scorso vinse 2-1 con una bellissima punizione di Antonio D'Avanzo a tre minuti dalla fine, l'Agropoli però ci arriva con i cerotti. Nonostante come detto gli infortunati che abbiamo detto prima, Esposito magari avrà una settimana in più di allenamento, però ci arriva con Siano e Berretti squalificati. In un primo momento si pensava anche Cuomo, però questo è stato smentito, Cuomo sarà della partita. Intanto vediamo le immagini della vittoria della Nuova Giovese con il Marcianese, una squadra che non aveva niente da perdere, per la verità non aveva niente da perdere, nemmeno domenica scorsa con l'Agropoli, invece ha vinto la sua partita, vedete il campo, un campaccio, c'è da sperare solo che non piova perché veramente il terreno di gioco è infame. La Nuova Giovese ha vinto la sua partita, una squadra che tra le muramiche, vediamo il primo gol della squadra calabrese, una squadra che tra le muramiche è veramente uno score di tutto rispetto. Nelle squadre di media alta classifica le ha praticamente battute tutti, ha anche fermato l'Akragas sullo 0-0 a 37 punti, davvero la salvezza a un passo, le altre squadre sono a 31, 6 punti di vantaggio a 3 giornate alla fine sono veramente tanti, possiamo anche sfumare le immagini, sono davvero tanti, però gioca in casa, non ha nulla da perdere, non è che ha tutta sta simpatia per l'Agropoli, quindi tranquillamente potrebbe cercare di far solo la partita. L'Agropoli è chiamata veramente all'impresa, vince la Gioia Tauro che è l'imperativo, almeno per continuare a coltivare sogni di secondo posto, perché questo lo dobbiamo dire, tra il secondo e il terzo posto cambia il mondo, perché in un'ipotesi sciacurata in cui il Rende arrivasse secondo e l'Agropoli terza, l'Agropoli dovrebbe giocare la partita di semifinale con la vincente fra la quinta e la quarta nello spareggio dei play-off, dopodiché seppur vincendo o pareggiando perché gioca per i due risultati dovrebbe giocare proprio a Rende nello spareggio di Girone e giocherebbe per un unico risultato. La vittoria, vincere a Rende non è facile anche se l'Agropoli ce la potrebbe pure fare. Bene, parliamo un attimo della battipagliese che come ho detto nei titoli si butta via in pratica, perché praticamente aveva l'occasione di vincere con una squadra, il Roccella, che non aveva nulla da perdere nel campionato, vediamo che scorrono le immagini, dicevamo che la battipagliese doveva vincere, era riuscita a dare in vantaggio anche su un rigore, all'ultimo secondo utile, all'ultima azione utile a certificare. Proprio il campionato molto sfortunato delle zebrette è stato raggiunto sul pari. Possiamo continuare a vedere le immagini, è stato raggiunto sul pari da un gol di Dorata, davvero una beffa per la battipagliese che già era stata beffata domenica scorsa con il Torrecuso, in cui l'unica partita che si è giocata è proprio con la battipagliese, ha vinto 2-1 e poi è andato a perdere a Sorrento. Ecco, vediamo il rigore dato alla battipagliese con l'ammunizione conseguente del giocatore calabrese del Roccella, il rigore trasformato da Leone sembrava fatta per la battipagliese, una vittoria raggiunta con Grinta, vediamo adesso nel rallenti le immagini, ci sembra il rigore abbastanza netto. Sarebbe andato a 33 punti mantenendo il Sorrento a 31, invece ha pareggiato, quindi appaiato dalla squadra della costiera napoletana, il Sorrento a 31 e il prossimo turno il Sorrento giocherà con l'Orlandina, quindi 3 punti facili, andrà a 34, mentre la battipagliese, adesso non ho presente il prossimo turno, giocherà a fuori casa, quindi alla fine l'obiettivo della battipagliese era quello di giocarsi il play-out in casa con il doppio risultato e invece probabilmente, ecco vediamo dove andare con la frattese, la frattese non ha tanto da chiedere a questo campionato, però la frattese in casa è una delle squadre più pericolose, veramente sfortunato questo campionato delle zebrette che sembravano nell'abisso qualche settimana fa, poi si erano riprese addirittura con la prospettiva di vincere al Torrecuso e vincere con la roccella, invece il Torrecuso in quella settimana ha ricompattato la squadra per poi risfaldarla, il Torrecuso metterebbe veramente un discorso a parte, perde a Sorrento 3 a 1, quindi questo derby fratricida tra battipagliese e Sorrento su chi giocherà il play-out in casa è veramente uno dei pochi motivi di interesse della bassa classifica. Dicevamo l'unica speranza per l'Agrople per chiudere il discorso Serie D è la Leonfortese, speriamo che la squadra siciliana, tra cui sveliamo anche questo piccolo aneddoto, l'allenatore della Leonfortese è grande amico di Mister Eagle, ma ragazzi vorrei fargli anche un favore personale, non ci ne vogliono gli amici di Rende. Passiamo velocemente al girone H perché seppur perdendo vogliamo certificare la salvezza matematica della Gelbison, salvezza per la verità già acquisita da tempo, però mancava solo la matematica. Fatto strano, la Gelbison perdendo sul neutro di fratte contro l'Arzanese ha certificato la sua salvezza con 42 punti. Vediamo i risultati, Grottaglie-Taranto 0-1, Arzanese-Gelbison-Vallo 3-2, Brindisi-Scafatese 3-2, Pomigliano-Francavilla 0-0, Andrea che torna a vincere contro il Manfredonio 2-0, Gallipoli-Cavese 1-2, Monopoli-Bisciglie 5-1, Sarnese-Putiolano 2-2, Potenza-Sansevero 1-2. Il Potenza dopo la sconfitta di Taranto cade inopinatamente con il Sansevero, evidentemente la botta di aver perso lo scontro diretto con il Taranto è stata fatale contro il Sansevero, squadra non irresistibile. Il Taranto deve veramente mordersi le mani perché è partito con molto ritardo, perché attualmente è seconda a 5 punti e se fosse partita prima, vediamo infatti la classifica che certifica quello che sto dicendo, l'Andria a 69 punti, il Taranto a 64, se fosse partita prima, approfittando del momento di impasse della Fidelissandra, poteva veramente dire la sua per la vittoria del campionato. Potenza 60, Brindisi 57, Bisceglie 55, Cavese 52, Gallipoli 44, Sarnese 43, salva anche la squadra dell'ex mister Witter che è stato esonerato, Manfredoni e Gelbison 42 insieme alla Monopoli, Sansevero 37, Francavilla 32, Pomigliano 29 insieme all'Arzanese che sta cercando di risalire la classifica, Scafadese 24, Grottaglie 22, Putiolana 21, anche qui il discorso salvezza è veramente interessante con Francavilla, Pomigliano e Arzanese che si giocheranno il posto play-out da giocare in casa, sarà veramente una lotta all'ultima giornata, salutiamo con soddisfazione e con i migliori auguri la salvezza della Gelbison che ha fatto il suo onesto campionato anche se come abbiamo detto prima era salvaggiata un po' a livello non dico matematico ma ufficioso e quindi questo ha fatto perdere un po' di concentrazione alla squadra di Misterio Logarzo che ha avuto anche qualche battuta d'arresto casalinga. Vediamo qui le immagini della sconfitta sul neutro di fratte della Gelbison che alla verità se l'è giocata era addirittura riuscita a passare in vantaggio, poi è subito raggiunta da Ciccio Vitale, uno degli ex dell'Agropoli, c'era anche Giorgio Scognamiglio in campo e praticamente poi alla fine ha perso questa partita perché le motivazioni della Arzanese come abbiamo detto in questo finale di campionato hanno fatto la differenza. Complimenti comunque alla squadra di Misterio Logarzo e alla Gelbison del comprensore. L'anno prossimo staremo a vedere i programmi però diciamo una salvezza tranquilla con un progetto magari sui giovani potrebbe essere un buon auspicio. Analizziamo anche il prossimo turno della Gironacca così chiudiamo il discorso Serie D. Bisceglie Gallipoli, Brindisi Pomigliano, Cavese Fidelissandria. Questo è un partitone perché se perde la Fidelissandria all'ultima partita ci sarà proprio Gelbison Fidelissandria. Veramente tanti tanti discorsi che si potrebbero fare. La Cavese però è in grado di battere una Fidelissandria non irresistibile. Francavilla-Arzanese, derby. Questo è uno scontro veramente salvezza perché Francavilla è a 32, l'Arzanese a 39, l'Arzanese vincendo addirittura potrebbe prendere il primo posto per i play-out e giocare per il doppio risultato in casa. Gelbison-Arzanese, partita che non ha nulla da dire, sarà un bel derby. Manfredonia-Potenza, Putiolana-Grottaglie, Sansevero-Taranto-Scafatese-Monopoli. Vedremo se l'Arzanato battendo il Sansevero magari approfittando di una vittoria della Cavese e rosicchierà altri tre punti alla Fidelissandria e poi a due giornate dalla fine ci sarebbe Andrea con due punti di vantaggio sul Taranto e con Gelbison-Fidelissandria da giocare. Un finale thrilling. Bene, abbandoniamo il discorso Serie D, andiamo in pubblicità. Nella seconda parte, come detto, parleremo di campionati minori con i play-off e i play-out del campionato di promozione, uno sguardo alla terza categoria e nella terza parte, come detto, parleremo del torneo che si svolgerà in 24, 25 e 26 sullo stadio Guariglia e sullo stadio Torre.